Buongiorno ragazze, allora nuova video spesa mentre Ricky dà la pappa a Dale Io vi faccio il video spesa Lidl perché siamo stati da Lidl, abbiamo preso un po' di cosine sia alimentari che non quindi vi faccio vedere tutto Allora c'era la super offerta che tra l'altro vi ringrazio un sacco due o tre di voi mi hanno segnalato che i pannolini erano in offerta e visto che i tre iniziano a darle un po' giustini siamo stati felicissimi di trovarli a soli 5,99€ anziché 7,99€ quindi grazie ci avete veramente dato una grossa mano e quindi ne abbiamo presi due, ne abbiamo approfittato non volevamo caricarci come dei muli ma penso che entro sabato faremo un altro giro e ne prenderemo altri due finalmente ho trovato le forbici alimentari, le cercavo come una pazza ho visto dei video dove tagliavano la pizza e il pollo con queste forbici è tanta tanta comodità soprattutto quando ordiniamo la pizza tipo l'ultima volta e si dimenticano di tagliarla con questa ci metti ieri, l'altro ieri e abbiamo fatto anche il video amore un po' smemorato, perdonate e quindi felicissima perché con questi qua ci si mette proprio niente a tagliarla poi abbiamo preso due bagnosiuma, uno per me io ho preso questo qua della Borotalco che è uno dei miei preferiti buonissimo e molto rilassante e Riccardo questo qua all'olio di Argan poi salviettine sempre della linea Luffy Lou quando capito lì le prendo perché sono molto buone e sono molto delicate quindi ne ho preso giusto un pacchetto perché ne avevo ancora un paio di pacchettini poi carote per le pappe di Alessandra e il primo sacchetto l'abbiamo svuotato poi passiamo al secondo che è bello carico questa volta sacchettino di insalata questa qua l'abbiamo presa perché stasera Ricci farà il suo, come si dice? il top gamma, non so il suo hamburger super fatto in casa quindi ci andava un po' di insalatina poi io ho preso questi involtini primavera se capitate a Lidl prendeteli perché non sono affatto male fatti al forno, magari non fritti sono veramente molto molto buoni e li ho presi con manzo ma ci sono con la variante manzo, pollo e suino mi pare io facevo i versetti poi gnocchi tricolore, Fedeli adora quindi quando li trovo li riprendo poi queste qua stavano solo a 99 centesimi in offerta sono stranissime, hanno questa forma a ciuffettino queste patate a ciuffetto non so come vada preparata se va fritta o in forno io optavo per farla al forno però vedremo poi cosa c'è scritto poi vabbè un po' di scorta di cosine veloci per quando uno è un po' di corsa cosa che con due figli mi capita spesso tipo queste crepes, tipo i sofficini al formaggio le ho presi anche al prosciutto e mozzarella al pomodoro e mozzarella quindi ho preso tutti i gusti disponibili se non erro solitamente c'è anche i funghi ma non l'ho visto quindi probabilmente erano finiti poi ho preso sempre tra i surgelati queste mozzarelline che mi ricordano un po' le McBite di McDonald's quindi quando facciamo magari qualche cena un po' porcellosa tipo l'hamburger di stasera ci potrebbero stare poi ho preso ancora che non lo contagio con queste robe ecco poi ho preso questo qui cremosissimo ho mai provato neanche così tanto economico mi faceva notare Ricky perché 2,99 euro ce n'è tanto sono 350 grammi spero sia un formaggio dolce e delicato se l'avete già provato scrivetemi nei commenti ditemi com'è io odio i formaggi stagionati con le muffe e con le cose lì quindi ho letto cremosissimo se lui li ama piccolo commento di Riccardo che vuole dire la sua amore io devo dire la mia altrimenti me noio amore ti stiamo filmando ciao poi sempre tra i surgelati così poi li sistemo prima che si scongelano tutti i piselli mettiamoli tutti vicini così poi ho preso questo contorno di verdura perché appunto le verdure le prenderemo dal verduriere o comunque al mercato e non volevamo caricarci di troppa roba perché avendo già preso tanto di altro ci saremmo veramente ammazzati quindi ho preso giusto questo mix di verdure per avere un po' di verdura in casa poi offertissima ci sono rimasta secca perché ci sono in offerta 99 centesimi ben 5 piadine i gp alla riminese proprio quelle che piacciono a me che vi dico sempre quindi sappiate che vi conviene andranno a prendere perché 5 99 centesimi è veramente super poco poi hamburger questi qua che sono un pochino più sottili vanno bene per fare gli hamburger soprattutto quelli che fa Ricky belli pieni e niente ce ne sono dieci devi prendere la si la scottona però era tipo alta così e se fai un hamburger con quella non riesci neanche a morderlo praticamente si si tu sicuro poi kebab di pollo ma cerchè stupacchi tu fa vedere ragno che deve fare la stupacchiera allora kebab di pollo questo qua l'ho preso perché avendo 5 piadine ho pensato perché no fare un kebab in casa con pomodoro fresco tanto è kebab di pollo quindi è molto più genuino del vero kebab e con pomodoro cipolla soffrite insomma si può fare una sorta di simil kebab fatto in casa quindi mi è venuta voglia l'ho preso poi abbiamo preso le alette di pollo ops al contrario ali di pollo speziate e cotte perché le abbiamo prese l'altra sera insomma ci sono piaciuto un casino quindi le abbiamo riprese da fare in casa e poi ho preso anche i cordon bleu insomma ho fatto un po di scorta di queste cose di carne secondo sacchetto andato e abbiamo l'ultimo il papà è sofferente perché non è abituato no allora mi sembra normale che mentre una mangia deve fare le pernacchie certo così ti arrivano le stelline di pasta in fronte no e ringrazia che non te le lancia sui capezzoli poi ma ripeto mi sembra sui capezzoli qua perché vedo spingolare se le cadenti evviva biscotti questi qua ah non è l'ultimo cavolo vabbè biscotti fior di panna questi qua sono buonissimi assomigliano tantissimo a quelli della mulino bianco poi il golosone riccardo ha preso i simil panni stelle sono anche questi molto buoni io li trovo un po' più dolci rispetto a quelli originali ma sono tanta roba se volete trovarli alcune cose non ve le posso far vedere perché ho trovato anche delle cosine per natale dei pensierini quindi non vi farò vedere proprio tutto poi ho trovato questi contenitori qua mi piacevano un sacco per la dimensione perché fatti così non ne avevo un granchelli avevo tutti tipo la metà di questo o comunque più sottili tipo così e stavano a 2,99 3 contenitori quindi ne ho approfittato poi Ricky ha voluto prendere il calendario dell'avvento di coppia quindi questo sarà il nostro calendario dell'avvento Fedino ha il suo quello che ogni tanto vedete nei vlog e ci sarà anche il nostro quindi faremo un cioccolatino al giorno a testa avremo il nostro calendarietto poi stava anche a pochissimo 99 centesimi dobbiamo recuperare i passi sì sì forse anche meno 99 dobbiamo recuperare diversi giorni sì ole che dispiacere mangio lo sopra poi latte parzialmente scremato ne abbiamo presi 2 litri sempre per non caricarci come dei muletti questo non ve lo posso far vedere poi c'è questo qui poi set di salumi ho preso tutti quelli che stavano in offerta quindi spec questo qua alto a DJ IGP che mi ispirava parecchio ha una bella faccia ha un bel volto faccia da spec cosa fa un maiale che si lancia dal settimo piano spec dopo questa ciao arrivederci ciao comunque mortadella Bologna IGP con pistacchi anche questo era in offerta poi questa qua questo qui è petto di tacchino al forno scusate la luce se ne sta andando perché il sole è andato via adesso mi inventerò qualcosa o illuminerò questo video in editing salame Milano quindi ho preso proprio tutti quelli che erano in sconto perché gli altri avevano un prezzo un po' eccessivo poi ho preso ok è successo un piccolo incidente alla povera sfoglia che ti serve il succio eh non è qua tanto è di là e ho preso la sfoglia che ora ricomponeremo ricompone vabbè avete capito ricomponeremo ecco eh perché voglio fare cioè no non ci credo ricomponeremo abbiamo preso la pasta sfoglia e non le cose e devo metterci dentro l'ho detto io vabbè tanto la posso fare anche più avanti comunque volevo fare come l'avevi promessa volevo fare la torta salata con il prosciutto e il formaggio che è la preferita di Ricky però vabbè comprerò poi una mega fettona di prosciutto e eh della mozzarella tipo la pizzottella ho dimenticato quei due pezzi poi fammi spicciare che sto yogurt che sto video sta durando troppo poi yogurt questo qua senza grassi da bere mele mango l'ho preso per Federico quando vuole bersi qualcosa di diverso sempre il golosone Ricky ha preso le caramelle gommose della Aribo dell'Aribo è strano vabbè parmigiano mi pare che ne abbiamo prese due buste se non erro già poi abbiamo preso il golosone sono io mangiatela tu io prima di pranzo non la mangio poi che dar no scusate cheddar stagionato nove mesi questo qua serve sempre per l'hamburger di stasera poi cos'altro ho preso aspettate che mi infilo un attimo nella busta perché c'è ok allora c'è ancora questi due in questa busta che sono questa insalata rossa chef select volevamo provarla stava no di meno 59 centesimi ce n'è poca però è poco comunque secondo me e poi questo qua formaggio fuso le classiche sottilette o roba simile poi ho preso avevo finito il il blush quindi ho provato questo qua della Sien non mi dispiace come colore è abbastanza quello che utilizzo io quindi lo proverò speriamo che sia abbastanza pigmentato e poi questo no e poi abbiamo preso due decorazioni per le finestre che quest'anno volevamo mettere gli adesivi ai vetri e abbiamo trovato questo qua che è veramente carino poi costava 99 centesimi mi pare pochissimo pupazzo di neve fiocco di neve insomma ci sono quattro fogli ma finito di mangiare bella sbaccata quattro fogli fatti così e poi invece quest'altro è piaciuto a me tantissimo proprio con babbo natale guardate che bello con il lanternino i pacchettini pupazzino e i fiocchi di neve e poi vabbè ci sono i quattro fogli che sono così c'è anche altri babbi natale con la renna fatti diversi molto molto belli quindi per 99 centesimi secondo me convengono abbastanza poi ultima busta ma non meno importante le briochine vuote per colazione per fede a scuola eccetera stai su anche Ale molto d'accordo poi le schiacciatine non so perché ma mi ricordano tanto quando andavo a scuola le portavo ogni tanto mia mamma me le prendeva per la scuola e quindi avevo voglia di mangiarle alle olive poi panini per fare gli hamburger sempre per stasera questi qua con i semini che tra l'altro non li avevano una volta ti ricordi li cercavamo sempre e non li prendevano mai adesso ci sono poi sempre per scuola merende varie i plum cake allo yogurt magro e poi ho preso un paio di robine per me che erano abbastanza convenienti queste calze qua Ale che stai dicendo vabbè sto video è un delirio tra rumori e lamenti comunque 30 denari un pochettino più trasparenti però con i glitterini ho pensato per le feste per capodanno e natale almeno insomma ho qualcosa da mettere e poi ho preso anche queste qua termiche che sono proprio altamente coprenti 80 denari sempre L e nere ovviamente e poi ho preso da metterci sopra questo vestito sempre vestito barra maglia perché con la bimba è veramente comodo come tipologia di vestito l'ho messo l'ho indossato così anche al battesimo ed essendo che non è proprio così lungo cioè questa ragazza probabilmente è molto più alta perché io ho provato la taglia più piccola sopra di me mi arrivava già al ginocchio quindi questa che è più grande dovrebbe andare sotto al ginocchio con queste paillettine un po' luminose e pensavo di metterle con le calze coprenti che vi ho detto prima quindi insomma l'idea outfit natale è questa insomma se siete interessate questo qua l'ho trovato a 9,90 euro e le calze non me lo ricordo queste sicuramente un po' più care perché sono collant termici quindi ho pensato se a natale fa freddo insomma qualsiasi cosa a natale a natale puoi e quindi boh questo è sicuro più care non mi ricordo però mi pare sui 5 euro giù di lì invece queste qua molto meno ci sono un sacco di fantasia anche leopardate insomma altre varie tipologie 3,99 euro un euro in meno circa più o meno un paio di euro in meno queste e niente ragazzi questa è tutta la spesa poi vabbè ci sono altre cose che non vi posso mostrare spero che vi sia piaciuta di avervi tenuto un po' di compagnia e al prossimo video ciao ciao